La star zitta è dirle che c'è... SILVA! Grazie! Meno male che mi salvi dai suoi esperimenti! Lasciali fare a lui le esperimenti! Allora, sta bene attento! Stasera... Grazie! Stasera faremo una cosa veramente eccezionale! Prima un giochino facile, facile, ma neanche tanto! E poi il secondo giochino molto più importante... Tu hai visto il film Rain Man con Dustin Hoffman? Come no? L'hai visto? Allora, Dustin Hoffman... Dustin Hoffman nel film portava, attenzione, un handicap... Ed era quello giustamente di una malattia mentale... L'autismo! ...che è definita autismo! Cioè, l'autista, per le persone che mi stanno ascoltando in questo momento... Non è quello che guida la macchina, né il tassista, né l'autobus! L'autista è una persona che è affetta da questa malattia mentale... ...che non gli consente di avere delle relazioni normali con un pubblico normale... ...e nel film, nel film, Dustin Hoffman dava prova di una meravigliosa memoria! Sì! Chiaro? È vero? Un po' come Picco della Mirandola, se ti ricordi bene! Allora, io vorrei tentare questo gioco, o meglio questo esperimento... ...o questo esperimento di mnemonica... ...questa sera sempre in diretta, prima di passare alla grande magia! Attenzione, io ho un mazzo di carte, se non riesce il gioco, chiedo scusa prima! È molto complicato, molto difficile e si differenzia da tutto quello che ho fatto fino ad oggi! Attenzione, un mazzo di carte, mazzo di 52 carte, va bene? Attenzione, le mischiamo, anzi facciamo una cosa molto più semplice... ...le consegniamo a Gabriella per cortesia, vuoi mischiare le carte! Io non sono molto brava! Attenzione, mischia le carte così come fossi magari con degli amici in casa, in un salotto, non dico in osteria, perché insomma non è... Le mischio tanto in modo che sia... Attenzione, ora per cortesia, grazie, grazie! Ancora, mamma mia, ancora! Vuoi mischiare le carte anche te, perché il pubblico pensa sempre chiaramente che le carte vengono mischiate male, eccetera... Mischia le carte, chiaro? Fatto, basta! Attenzione, ora attenzione! Prendiamo il mazzo di carte, attenzione Gabriella, il mazzo di carte! Metti le mani così, grazie! Attenzione! Capovolgiamo il mazzetto di carte, state attenti! Ora ti pregherei, state attenti, tiri le carte così, con la mano sinistra e con la destra, ne prelevi una alla volta e le posi sopra la palma della mia mano! Io devo concentrarmi e seguire le carte, ricordando le carte! Se non riesce, vi chiedo scusa già fin da adesso, perché non è semplice, non è un gioco di prestigio! Tu però, ogni carta che passa dalla sua mano alla mia mano, conti 1, 2, 3, perché le carte sono 52, è chiaro? Diciamo anche che carta è? Se vuoi dirlo, io basta che lo vedo, se vuoi dirlo, dirlo! Va bene, questo è un K di quadri! K di quadri! Silenzio, per cortesia un po' di musica, per cortesia un po' di silenzio! 1! Silenzio, allora! Questo è un asso di cuori! Bene, vai! Questo è un 6 di picche! 3, vai! Questo è un 10 di fiori, una donna di cuori, un jack di cuori, un 2 di picche, un 8 di fiori, un 9 di cuori, un 8 di cuori, ancora? Sì, sì, avanti, avanti! Un 4 di fiori, un 7 di fiori, un 5 di quadri, una donna di picche, un 7 di picche, un 5 di picche, un 10 di quadri, un 8 di quadri, un 9 di picche e un asso di picche! La donna di a hanno Conta cuore, un 1 di 17 di picche, un 3 di quadri, un 2 di picche, un 20 di picche, un 10 di picche e un 2 di fiori! Un 10 di cuori, un 6 di fiori, un 4 di cuori, un 5 di fiori, un 6 di quadri, un 9 di fiori, un 3 di cuori, un 2 di cuori. 44, alto, alto, io vedo quella carta ma tienile nascoste, vedo soltanto un'altra carta, queste sono 44, è chiaro? Quella che abbiamo visto tutti quanti, non voglio assolutamente imbrogliarvi, è una carta che ci fa la vedere ma non ha nessuna importanza, quelle che sono sotto non posso assolutamente conoscere. 44 carte, 45, in un mazzo di carte ci sono 52 carte, le avete mischiate, ben visibilmente i signori siamo in diretta. Io sto tremando un pochino perché non so se ce la farò, perché sapete che canto alle 3 del pomeriggio per cui la testa mia veramente vola altrove. Attenzione, prendi ora, attenzione, le carte sono qui nella mia mano, io adesso mi volto, mi volto di spalle, vuoi consegnare delle carte che ti sono rimaste, togli la prima perché l'ho vista, delle carte che ti sono rimaste, togliene 2, 2 o 3 a lui e 2 o 3 a te, attenzione, io mi volto, attenzione signori, silenzio. Ora, per cortesia un po' di silenzio, fatemi pensare per cortesia le carte rimanenti, ne abbiamo contato 44 e una 45, rimangono 7 carte, ho cercato di fissarle nella mia mente, attenzione. Silenzio, se avete una di queste carte dovete dirlo, attenzione, il mazzo di carte è qui, le carte rimanenti nelle vostre mani, silenzio, manca, manca, ditemi sì subito se c'è, se no ditemi no, manca il 5 di cuori. Sì, c'è. Silenzio, manca, manca il 2 di quadri, rosso. Sì, c'è. Manca il, il, scusate il 3, 3 di picche. Sì, eccolo qui. Manca, manca, manca un asso, un asso, un asso, un asso, un asso, scusate, un asso, asso di fiori. C'è. Attenzione, manca, ho visto che mancava il re, mancava prima, l'ho visto questo, l'ho notato subito, manca il re di cuori. Sarà in mano Gabriele. Sì. C'è, c'è, c'è. Bene. Manca, è l'ultima mi pare, ce ne sono quante ancora, scusate, sto pensando. Io ne ho una da scoprire. Attenzione, una a scoprire. E Gabriele ha tenuto in mano quella che tu ti avresti. Sì, manca il, il, il quattro di cuori. C'erai tu Gabriele? No. Attenzione, posso sbagliarmi, attenzione. Sì. Manca, manca, l'asso, un asso. Sì. Manca un asso, manca un asso, non è facile. Manca un asso. Sì, ora ne manca ancora uno. Attenzione, manca un asso. L'asso di quadri. Eccolo. Bene, attenzione. Manca, ora manca un quattro. Manca un quattro. Sì. Ecco, attenzione. Manca un quattro. Manca un quattro. Non mi viene. Manca un quattro. Di quadri. No, no. Attenzione, mi sto sbagliando. Manca un... Di fiori. No, scusate, l'ultima dimostra la difficoltà di questo gioco. Manca un quattro. Cos'è? Di picche? Sì, era l'ultima. Quattro di picche, ma non è la miseria. Era l'ultima. È una cosa difficilissima. È una cosa difficilissima. È una cosa difficilissima. Guarda che il fatto che tu abbia avuto difficoltà rende ancora più disumano. Grazie. È una cosa difficilissima. Difficilissima. Ragazzi, voglio dire che io non uso apparecchi, non uso naturalmente vento le orecchie. Non c'ha niente. Attenzione, questo è veramente un gioco mnemonico. Però non giocare da scopa con lui, se no si ricordano tutte le carte. Allora adesso invece passiamo alla grande magia. Alla grande magia. Ti lasciamo un salto. Non avete fatto abbastanza l'applauso grande? Questa prova è una prova di... Si è rimasti a bocciamento. La magia non c'entra niente. È una delle caratteristiche che ti aiutano nel tuo lavoro. È una delle caratteristiche di chi fa questo mischio. La memoria. Molto difficile, molto difficile. Allora io chiedo scusa, chiedo scusa perché prima di presentarvi la grande magia consegno il mio smoking e entriamo naturalmente...